Ciao ed eccoci a questo Teo delle 5 che sfrutto come format per farvi vedere anche qualcosa di portabile, di qualcosa di cui non sono riuscito a fare una vera e propria recensione minuta ma che mi piaceva farvi vedere. E' il caso in questo caso degli Inside Cube, vedete Inside alla terza. Trovate anche il sito web chiamato proprio inside3.space se lo state cercando. Di cosa si tratta? Sono dei labirinti cubici. Questo è uno e adesso cambiando l'inquadratura vi faccio vedere che c'è già uno altro pronto quindi vado a aprire la scatolina ed ecco qua il nostro labirinto. Allora come funziona? All'interno c'è una sferetta, metto un attimo via questa cosa che se no mi da molto fastidio, perfetto. Vedete che c'è una sferettina metallica qua dentro che è bloccata proprio nello start di partenza e vedete che il nostro cubo, in questo caso quello facile, livello 0 di difficoltà, in realtà ce n'è ancora uno ancora più facile come livello ma già questo è abbastanza semplice ma poi ve ne parlo. Vedete che andiamo avanti per sette strati quindi vuol dire che la nostra pallina dovremmo fargli fare questo giro, andare qua, arriva al centro e cade, cadrà e quindi comparirà in questo punto qui. Quindi dobbiamo fargli fare questo giro eccetera fino a che non cadrà nello stato sotto eccetera. Come potete notare però il cubo è completamente chiuso quindi non potete vederlo. Quindi nel momento in cui io stacco la pallina dal suo step di partenza quindi la faccio partire quindi ok quindi vedete che la pallina adesso è pronta io la faccio andare verso destra poi vado verso l'alto non la vedo più e quindi andando solo con l'orecchio quindi riesco a girare giù, destra, su. Adesso se vado a sinistra dovrei sentire la caduta. Avete sentito che è caduto e ha cominciato a muoversi? Bene il vostro scopo è attraversare tutti i livelli e arrivare dall'altra parte. Sotto al cubo vedete che c'è l'uscita quindi se la vostra sferetta arriva di qua avete vinto. È intrigante come cosa? Ci ha preso subito bene ma è venga frustrante ve lo dico subito cioè vi devono proprio piacere i cubi. Allora noi siamo partiti da questo in realtà abbiamo comprato questo qui che è min novice quindi c'è un novizio cattivo perché abbiamo detto ma sì perché in realtà quelli facili vedete qua sul retro delle scatole ci sono i vari livelli di complessità e quindi abbiamo detto vabbè ma proprio partire con livelli super facili ma no perché partiamo da quello arancio che ci sembrava una cosa intermedia devastante cioè non riuscivamo a fare niente. Più che altro perché già in questo livello vi faccio notare che in ogni strato possono esserci più buchi vedete la pallina qua può cadere in 1 2 3 punti qua 1 2 3 questo perché mentre in questo semplice la strada è una sola quindi qua cado arrivo qua cado arrivo qua cado non vi potete in qualche modo perdere solo questo ha due cadute. Da questa parte dovete muovervi scendere in un punto muovervi di là tornare al piano superiore poi andare al piano inferiore magari cadere di 2 vedete questo e questo vi fa cadere di 2 strati vi muovete tornate su di 1 poi tornate ancora su di 1 poi scendete ancora di 2 quindi ha solo 5 piani rispetto a questi ma sono devastanti che dovete andare su e giù. Dovete anche calcolare bene come ruotare il cubo per salire e scendere ruotare da una parte o dall'altra vi fa perdere la pallina stavamo impazzendo dopo averci provato un sacco di volte abbiamo deciso di prenderne un altro più facile e questo è il più semplice in assoluto è quello azzurro chiaro che ha proprio è quasi guidato diciamo che non dovreste avere nessun problema riuscite a farlo anche a mente. Questo già ha la cattivera del doppio buco ma vi insegna già a perdervi e poi vi faccio notare che si va sempre più nel difficile addirittura certi questi qui neri non hanno le indicazioni quindi non sapete neanche come è fatto il cubo e in altri nei vari casi con l'asterisco quindi quando siete qua addirittura non si possono aprire questi qui vedete con l'asterischino questi non si possono aprire. Cosa vuol dire questi se proprio siete messi male potete girarlo fate questa cosa e anche qua con le dovute accortezze potete aprirvi il vostro cubo quindi ecco tipo perso c'è la pallina quindi ci sono i vari straterelli vedete che sono non devo perdere la pallina scusatemi la metterò qui nella scatolina poi la richiuderò vedete che ci sono i vari strati che dovete tenere ovviamente impilati nel modo giusto quindi recuperate la pallina e potete ripartire. O perlomeno potete proprio guardarvi bene com'è il vostro cubo poi ve lo richiudete tranquillamente quindi io dovrei aver fatto una cosa di questo tipo spero di non ma sì ok dovrebbe essere giusto altrimenti lo chiudo dopo rimettete il tappo sotto e siete a posto se sbagliate sappiate che poi vi perderete e dovete farlo e questo è se potete aprirlo. Immaginate di non poter aprire il cubo scusate non lo sto incastrando in una maniera corretta ok vieni su così ok immaginate di non poter aprire il cubo e capite subito dove ah perché è diventato questo pezzo ecco per dire dopo lo rifarò. Immaginate il delirio quindi molto intrigante volevo parlarvene perché a noi ha intrigato ma non pensiate di essere bravi subito partire da questo a noi ha lasciato una grossissima frustrazione. Siamo venuti a scendere a questo quando abbiamo imparato a farlo sia da un lato che dall'altro che poi quando riuscite a girarlo tutto da una parte lo mettete sotto sopra lo dovete provare a tornare indietro ed è completamente diverso ovviamente affrontare il labirinto al contrario. Se riuscite a farlo senza problemi diciamo quando noi siamo scesi sotto i 5 minuti di risoluzione di questo allora abbiamo provato a ritornare a questo ci siamo riusciti un paio di volte e poi diciamo che non abbiamo voluto approfondire proprio perché è un rompicapo da avere dietro sono interessanti però vi devono piacere questi rompicapi. Quindi niente volevo parlarmene saranno un paio d'anni che ce li ho qua ho sempre detto poi glielo dico poi glielo dico adesso ve l'ho detto direi che ho finito vi dico ciao e alla prossima.